Dottor Spasi, volevo chiedere anche dal punto di vista degli investimenti in capitale sociale e rappresentativamente a consumo qui, c'è un fenomeno che ormai è diventato importante che è quello della fintech, cioè la tecnologia finanziaria, per esempio di più prodotti anche di investimento offerte attraverso app, attraverso siti, voi so che siete molto attenti a migliorare questo fenomeno, allo stesso tempo, questa è la seconda domanda che le faccio e se le vado a rispondere, avete regolamentato con molta attenzione, questo è un punto assolutamente meritoso, è questa attività preceditissima, il fenomeno dell'equity crowdfunding, quindi magari ci vuoi raccontare come il social sta agendo anche nel vostro spettro d'azione? Grazie per l'ambito, cercherò di non abusare della pazienza dell'oritorio dove siamo ormai quasi portati a Massimo. Un paio di considerazioni rapidissime di carattere generale, vent'anni fa, non un secolo fa, le contrattazioni in borsa si facevano in un luogo fisico, cioè della piazza finanziaria, c'era un recinto in cui c'erano gli agenti di borsa, la cordeia si chiamava il recinto alle griglie e poi fisicamente con dei foglietti in mano gridando ai loro collaboratori e facendo segnali strani, gesticolando e organizzavano il mercato di borsa, quindi senza solo interesse, in cui parlava prima Camanzi era l'unico mezzo che li collegava al mercato inteso come lo intendiamo adesso. Vent'anni fa il mercato telematico per cui è iniziata la rivoluzione tecnologica che ha cambiato tutto, veramente le piazze sono diventate appunto piazze telematiche, l'innovazione tecnologica ha impresso una spinta velocissima all'innovazione finanziaria per cui sono arrivati nuovi gruppi finanziari, nuove opportunità, la piazza è diventata una piazza veramente globale. Prima di andare a rispondere sui due argomenti che propone del nostro moderatore un'ultimissima considerazione sulla finanza ingente che è diventata un fenomeno così globale e spesso quasi minaccioso, così come ce lo descrivono anche le cronache di tutti i giorni. Invece la finanza come ce la insegnava, appunto un po' tempo fa il libro di testo era uno strumento che serviva a mettere a disposizione il risparmio di chi aveva le migliori idee in modo da poter in qualche modo poi dare un contepunto importante all'economia reale. Negli ultimi anni proprio in virtù di questa mega innovazione tecnologica, la globalizzazione, quindi il movimento di capitali in tempo reale ha sostanzialmente allontanato questa missione che per tantissimi anni, per secoli ha avuto la finanza. Quindi è diventata talmente esorbitante da entrare quasi in concorrenza con l'economia reale. Un dato, nell'ultimo dato disponibile, 993 mila miliardi di dollari, anzi una cosa ancora prima, 75 mila miliardi di dollari è l'ammontare del prodotto rotto mondiale nel 2013. 993 mila miliardi di dollari è l'ammontare di tutto quello che la finanza muove. Di questi 993 mila miliardi, solo 283 mila sono la finanza tradizionale, cioè azioni, obbligazioni e attivi bancari. 710 mila miliardi è la finanza diciamo così derivata. Quindi vuol dire, questa è assolutamente dalle dimensioni del fenomeno di cui dopo l'Eman in poi tutti si occupano, ma continua a essere immanente nel sistema. e forse ecco, la domanda che si devono fare non solo i regolatori, ma i governi è come riportare la finanza alla missione originaria. Questa, secondo me, è la Grundfrave, la grande domanda. In questo contesto non siamo in grado di rispondere. Quello che possiamo fare noi come regolatori è quello di applicare le regole, come sappiamo, le regole ormai a livello comunitario sono quelle che guidano le azioni delle autorità di regolazione nazionali. Questo, diciamo così, cerchiamo di fare contribuendo alle lavorazioni di queste regole e cercando di fare entrare nel il perimetro delle regole, tutto quello che dall'innovazione tecnologica continuamente sfugge. È una, diciamo, un'impresa veramente non da poco. Tornando invece alle domande che faceva il maseratore, effettivamente il trading online, il trading algoritmico, quindi basato sulle consulenze automatizzate, quello di cui parlava la dottoressa prima, sono ormai in realtà presenti nella nostra quotidianità. Tra l'altro noi da un paio d'anni abbiamo la possibilità di ricevere segnalazioni online. Questo anche a seguito di un tavolo con le associazioni di consumatori che faceva parte e fa parte anche il Presidente Finzi. Abbiamo elaborato insieme questo modello che è stato particolarmente attrattivo vedendo i dati di questi due anni per chi era già digitalizzato. Quindi i frequentatori, gli investitori dei siti online rappresentano la quasi totalità delle denunce. E da lì è emerso tutto questo mondo di siti borderline, di chat che danno consigli, mettono disclaimer che poi noi ci subito denunciamo, nel senso che comunque dal punto di vista regolatorio tutto quello che si muove in rete automaticamente rientra dal nostro punto di vista nelle regole. Quindi anche se uno che si definisce non professionista, chat online, è tenuto comunque a rispettare una serie di regole e quindi è passibile di essere accusato di manipolazione di mercato della parte nostra. Noi grazie anche a questo monitoraggio fornito dai stessi operatori, investitori che lavorano, che in qualche modo operano online, abbiamo controllato, controlliamo circa ogni anno sui 300 siti di cui 150 rileviamo di regolarità, un centinaio li segnaliamo anche all'autorità poliziaria, perché spesso ci sono anche i profili penali e non solo amministrativi. Quindi ecco, devo dire che questa è stata una felice interazione tra associazioni di consumatori e autorità di regolazione perché ci ha permesso poi di ideare uno strumento molto utile ed efficace. Per quanto riguarda il crowdfunding, effettivamente siamo stati i primi in Europa a regolare questo fenomeno, l'abbiamo regolato nel 2013 per la prima volta con maglie impostrette, tant'è vero che poi già a primavera di quest'anno li abbiamo iniziato ad allargare anche a seguito di un'operazione che abbiamo fatto con gli operatori del mercato. Un po' di dati rapidamente per chiudere. Abbiamo il crowdfunding, noi l'abbiamo regolato, regolando sostanzialmente i portali che possono essere autorizzati dalla consul e controllare la consul. Attualmente ci sono 15 portali internet dedicati all'equity crowdfunding che fa il portale. Il portale sostanzialmente è quello che aiuta l'idea ad incontrare i soldi. Quindi il giovane start-up, magari segnaleremo anche a Camanzi questa possibilità di indirizzare pure verso i portali crowdfunding qualche buona idea, appunto gli aiutano a presentare, a fare un video di presentazione, qualora il gestore del portale detiene di essere in presenza veramente interessante. In questi due anni ci sono stati circa 50, di cui una decina è in corso, di tentativi di raccogliere soldi. Una delle regole è che una volta che stabilisci un target o lo raccogli di brutto oppure fallisce la... e quindi vengono, diciamo così, restituiti i soldi a chiedere sui costretti. In genere, appunto, ci sono 10 offerte ancora online, 20 sono fallite, 20 sono riuscite, la media della raccolta è di 300.000 euro, quindi una raccolta di 6 milioni. non è moltissimo, ma 300.000 euro per uno start-up è una cifra che può essere interessante. Noi stiamo continuando a vedere come man mano allargare le maglie della regolazione in modo da poter poi consentire, diciamo così, una sempre maggiore popolarità dello strumento. Grazie. Grazie.